E' soddisfatto dei controlli che sono stati fatti in questi giorni anti-assembramento? Devo dire che è stato fatto un grande lavoro, c'è stato un grande impegno. Chiaro che è molto difficile riuscire a controllare l'assembramento, soprattutto in un periodo festivo come questo, col turismo che noi abbiamo. Sono preoccupato per l'andamento dei contagi perché i numeri che abbiamo sicuramente ancora oggi ci dicono che la curva dei contagi sta crescendo. Per poter fronteggiare questo non ci vuole l'attività repressiva, ci vuole una grande responsabilità da parte delle persone.